A Civitanova Marche è la casa natale di Anni Balcaro a ospitare la pinacoteca civica e la raccolta di arte moderna. Al piano terra sfilano in ordinata composizione acqueforti, disegni a china, a matita, a quarellati, di maestri del calibro di Cascella, De Chirico, Carrà, Cantatore, Bartolini, solo per citarne alcuni. Mentre nelle sale adiacenti sono esposte opere pittoriche di nomi altrettanto importanti che hanno fatto la storia dell'arte contemporanea e i visitatori possono così ammirare opere di Morandi, Omiccioli, Sironi, Tamburi, Fazzini, Ciarrocchi, Brindisi e De Maceratesi, Peschi, Tulli, Monti e altri ancora. Al piano superiore l'atmosfera cambia per la presenza di opere a carattere sacro che spaziano dal 1500 al 1700 recuperate dalle chiese del territorio circostante, tutte ben restaurate e con un elevato livello di conservazione. Stupisce invece nel piano seminterrato la presenza di una stamperia per incisioni in perfetta efficienza che viene ancora utilizzata.